Poterete introdurre il numero con lo fuoco. Ecco, adesso voi appoggiate la vostra torcia sulla mia, sopra, perché se la metti sotto... Anni e anni di ingegneria per questo. Prima di tutto scolatela un po' per terra, perché potrebbe esserci del petrolio. Parte che non scori nulla, sì! Parte che non scori nulla! Per la Pasqua sei apposto nulla. Ho preso un testimone e dicevo... Bene, vai! Bambini, vi hanno mai benedetto a voi? Bene, Eliana! Rito scaramantico perché il giullario non finisca come Giovanna D'Arco. Ehi! Ehi! Wow! Ehi! Ehi! Wow, wow! Ehi! Ehi! Olè! Eh! Eh! Fatto, fati! Eh! 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 Se mi brucia è colpa tua poi! Eh! 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 Va bene, usiamo il piano B. Il piano B. Voi fidate di più di lei o di lei? Sì! Fra tutte e due! Sei la tua mamma, sei di parte! Eh! Vediamo subito! Catherine! Sì! La vedi la mano? No! Si! Ti gonfia proprio! Prendi la scotch e prendi la scotch! Guarda la mano, abuso di bersaglio! Senza troppa enfasi lancia la pari! A tre! Uno, due, tre! Un applauso! Buongiorno! 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 Tu sei destra o maldestra? Ah! Bandiamo la scotchina! Che è che me l'hai mandata a te eh! Per vendi parti eh! E li ha ma prendi la torcia in centro! Ma non ho capito! Ma non ho capito! Ce la vieni mai fo se gonfia però! Brava! Vieni qui! Sembri la stato della libertà prima di essere qui. Dai i capelli, torni a casa come me. Prendila con la mano destra, forse è meglio. Brava. La vedi questa? È la mano sinistra. Ora, altre farei che mi ha fatto Catrina. Prendi la lancia. Eleana, io ce ne ho due. Se non la lancia, cavolo, se ne tiro. Sono un giocoliere. Mentre tu lanci la prima, io lancerò la seconda in aria e prenderò la prima. Eleana! Facciamoci una ragione di essere in due su questo palco, va bene? Uno! Bambini, se vado a fuoco, ricordatemi come un giudato è stupido ma simpatico, va bene? Uno! Amore, neanche io voglio andare a fuoco, non ti preoccupare, è una battita. Uno! Eleana, qua no, è caso uno. Sono ancora un figliolo, quindi... Uno! Dillo, giuro. Eh, eccoci, c'è qualcosa. Perché se c'è paura, volta sicuramente, anch'io non sono animato. Uno, due, tre! Eleana! La donna buona me la tira! Eh, ah! 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 Due, due, tre! Con Garbo! Un applauso for me! Applausi! in equilibrio e adesso il numero dello scusa fuoco l'avete mai visto? l'avete mai visto